. Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 aprile, Sei un uomo squallido, Tina Cipollari Furiosa. Martedì 9 aprile 2019 va in onda il secondo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D. . Oggi pomeriggio alle 14.45, subito dopo la soppopera Iberica Una Vita, su Canale 5 andrà in onda Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. . Stando agli spoiler diffusi da Il Vicolo delle News, ma anche dai canali social ufficiali della trasmissione Mediaset, i telespettatori assisteranno al secondo appuntamento settimanale del Trono Over. . . Cosa accadrà in studio? A quanto pare una ex coppia sarà ospite nello studio 6 dell'Elios in Roma per fare un lieto annuncio. . Per conoscere tutte le anticipazioni vi consigliamo di leggere l'intero articolo. . Spoiler Uomini e Donne, Trono Over, Il Ritorno. . Le anticipazioni della puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, rivelano che ospiti nello studio 6 dell'Elios in Roma saranno Yara Gaspari e Nicola Valestri. . L'ex dama e l'ex cavaliere racconteranno a Maria De Filippi e a tutto il pubblico come procede il loro rapporto sentimentale e che il prossimo settembre avranno un bambino. . Inoltre, stando agli spoiler una coppia lascerà il dating show Mediaset insieme. . A quanto pare si tratta di due persone che erano presenti al parter senior solo da qualche settimana. . Poi la conduttrice annuncerà l'ingresso di nuove signore per il benestante Benny. . Infine nell'appuntamento odierno ci sarà un Riccardo Guarnieri contro tutti. . Naturalmente Barbara De Santi e Valentina ancora una volta dimostreranno di sapersi prendere i loro spazi. . . Dove rivedere le puntate di Uomini e Donne. . . . . . . . .